Il 17 aprile abbiamo la possibilità di dire il nostro sì al referendum per proteggere una delle nostre risorse più preziose, il mare. Siamo circondati dal Mediterraneo, è un mare chiuso, bellissimo, una ricchezza per il nostro turismo e per l'economia. Le lobby del petrolio e il governo, che invita persino all'astensione, vogliono mettere tutto questo in pericolo. Serve il sì di ciascuno di noi al referendum per difenderci dalle trevellazioni vicino alle coste. Pensate cosa succederebbe se ci fosse uno sversamento di petrolio in un mare chiuso come il Mediterraneo. Con il sì faremo in modo che le concessioni per le trevellazioni abbiano una data di scadenza. È un primo importantissimo passo per la difesa del nostro mare e per dire che noi vogliamo sviluppo sostenibile, energie rinnovabili ed efficienza energetica. Basta col petrolio nei nostri mari, basta con le trevelle. Il 17 aprile votiamo sì contro le trevellazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.